Siamo contenti, abbiamo vinto, è una partita importante, forse il risultato non è vero il risultato come è andata la partita, però siamo contenti che abbiamo fatto il nostro lavoro sul difesa e in attacco. Ora è difficile da dire perché è stata solo una partita di playoff, però credo che ancora possiamo migliorare qualche decisione in attacco, però la nostra forza dovrebbe essere la nostra difesa e se noi continuiamo a giocare così in difesa e togliere punti più forti di avversari, così possiamo fare tanto. Allora io non posso dire come lo vedo, che cosa possiamo fare, però lo so che questa è la nostra identità è difesa e dobbiamo giocare così e poi attacco, ancora possiamo migliorare. Non voglio parlare di una partita perché i playoff saranno molto lunghi e per quello credo che noi come Menzana possiamo migliorare un po' di più in generale. Non avete mai abbandonato l'idea che fosse la difesa? Sì, noi come il gruppo crediamo che questa è la nostra forza, per qualche ragione non abbiamo giocato bene in difesa, per qualche motivo non so, però ora non possiamo pensare qualche problema è stato, qualche motivo non abbiamo giocato bene in difesa, ora non possiamo pensare perché dobbiamo giocare, dobbiamo mettere il nostro approccio, l'aggressività sulla difesa e solo così possiamo essere Menzana. Grazie. Grazie a tutti.